Come nelle migliori performance di nuoto sincronizzato, il tuffo è stato simultaneo in tutta Europa con migliaia di persone pronte a gettarsi in laghi e fiumi per chiedere, anzi pretendere, il ritorno alla balneabilità di tutti i corsi d'acqua che la natura ci ha regalato e che l'uomo ha finito per contaminare. In Lombardia l'iniziativa di European Rivers Network è stata sposata da Lega Ambiente che ha chiamato a raccolta volontari attivisti per immergersi nell'olone e nel Ticino. Il tuffo segue di pochi giorni il tavolo regionale sul risanamento del lago di Varese e gli annuali rilievi della Goletta, che anche quest'anno ha mostrato pollice verso rispetto alle condizioni della sponda lombarda del Lago Maggiore, bocciato parte del Ceresio e denunciato le pessime condizioni del Lido Schiranna, assediato da rifiuti e mozzicone di sigaretta. La guardia resta alta al cospetto dell'olona, sorvegliato speciale ormai da molti anni, e l'indice degli ambientalisti torna a volgersi criticamente su una parte dei depuratori, specie per le condizioni del Ticino. Se è vero, dicono che gran parte del Lago Maggiore gode di discreta salute, è altrettanto vero che il grande fiume, suo emissario, non se la passa bene in nessun punto dei suoi 110 chilometri. E questo per alcuni impianti di cui da tempo chiediamo la sistemazione, in particolare quello del torrente Arno, quello di Sant'Antonino e quello del canale scolmatore del nord-ovest.